Ma vi siete mai chiesti quanti baci ci sono in Harry Potter? Sì, lo so, è una domanda un po' strana, però oggi voglio trattare con voi l'argomento KISS. Quindi se siete interessati, continuate la visione del video. Ciao, sono Catta Nerd e bentornati su Ciak Reazione. Se parliamo di grandissimi baci, con amore, con passione, con piacere, c'è da dire che in Harry Potter tutto questo non lo si può trovare perché comunque sono tutti baci un po' buttati lì. Comunque, partiamo subito. Diciamo che nei primi tre film non ci sia proprio l'ombra di un bacio perché nella Pietra Filosofale e nella Camera dei Segreti, diciamo, sono ancora un po' bambini, ancora nella fase iniziale dell'adolescenza. Nel prigioniero di Azkaban già si inizia a intravedere qualche scintillina, come si suol dire, finché non si sboccia nel calice di fuoco dove non succede niente di che. Però abbiamo un bacetto sulla guancia della nostra Flair de la Cour al nostro Ron Weasley perché pensava che al Lago Nero era stato lui a salvare la sua sorellina nella seconda prova del calice di fuoco del nostro amatissimo Harry Potter. Però questo non conta. Il primo vero bacio che viene dato nella saga di Harry Potter è stato nell'ordine della Fenice dove il nostro Harry deve istruire l'esercito di Silente nella stanza delle necessità e qui vi è un kiss abbastanza intenso con l'alunna Cho. E qui c'è da dire che non sia proprio un fatto di amore o cotta. C'è da dire che purtroppo lei già stava soffrendo per la morte di Cedric Diggory da parte di Lord Voldemort nel film precedente e quindi il dolore insieme a tutta un'altra serie di cose l'ha portata a fare questo gesto. Un gesto che diciamo che al di là del film stesso non ha dato granché importanza al tipo di sentimento. Il film dove sbocciano finalmente tutti gli amori, insomma ovvero i sentimenti in maniera più esplicita è il film Principe Mezzo Sangue perché qui vediamo tutta una serie di evoluzioni dei personaggi a livello sociale e anche sentimentale perché vediamo un po' più il nostro Ron infatti lo vediamo giocare a Quidditch lo vediamo crescere a livello agonistico finché non riesce a vincere una partita, un trofeo e alla festa post partita lo vediamo sbaciucchiarsi con l'alunna Lavanda diciamo lì andava dietro già da un po' e Ron pieno di ormoni non riuscendo ancora a combinare qualcosa con la nostra ermione decide di lasciarsi andare e sbaciucchiarsi con Lavanda in un bacio diciamo più adolescenziale che passionevole diciamolo buttiamola così e qui si intravede pure la nostra ermione stragelosa e nonostante questo kiss non sia stato il massimo preparatevi a tagliarvi le vene vedendo quello successivo perché sempre nello stesso film nella stanza delle necessità la nostra Ginny Weasley prova ad aprire il suo cuore a Harry Potter in un bacio che sembra più una botta contro il muro che un simbolo di amore che vediamo proprio puh e si stacca quindi ragazzi è il bacio peggiore che io abbia mai visto per fortuna nel capitolo successivo ovvero nei Doni della Morte parte 1 il bacio tra Harry e Ginny ha un riflesso un pochino più sentimentale e passionevole difatti vengono pure beccati dal fratello Weasley in casa sua mentre si stavano un po' pomiciando in ogni caso tra tutti questi che vi ho appena detto secondo me l'apice viene toccato nel Lord Crux di Voldemort ovvero nella scena in cui Ron rompe il ciondolo davanti a Harry Potter perché qui intravede i suoi pensieri più oscuri che gli trasmette il Signore Oscuro e tra di essi vediamo Harry ed Hermione pomiciare in un modo stra 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 passionevole sentimentale intenso quello è il bacio migliore ci sia in Harry Potter ma proprio fatto in maniera malefica e cattiva davanti agli occhi di nostro Ron che si riempie subito di rabbia e decide di distruggere subito sto ciondolo diceva oh ma che cavolo fai e per concludere nell'ultimo film ovvero i Doni della Morte parte 2 non potevano mancare i baci dei nostri due protagonisti con le rispettive ragazze in una scena in cui baciami perché forse morirò quindi potete solo capire come è impostata questa scena infatti possiamo vedere Harry e Ginny che in una fase pre combattimento finale contro Voldemort si danno un bacio molto amorevole e lo stesso succede a Ron Weasley insieme ad Hermione perché vanno a cercare una sorta di arma per distruggere un orclus all'interno della camera dei segreti infatti il dente del basilisco ucciso da Harry in una camera dei segreti era perfetto per distruggere l'orclus e qui vengono sopraffatti da una fontana d'acqua dopo si chiedono guai io non ce la faccio più bisognette baci e si sbocciano in un bellissimo e sentimentale bacio d'amore e due si mettono praticamente insieme e quello forse è il bacio che si aspettava un po' di più all'interno di questa sabbia e niente ci lasciano proprio con queste fantastiche scene dove un po' accontentano i fan un po' perché anche se tanti attori che si sperava si mettessero insieme alla fine ce l'hanno fatta c'è da dire che il modo in cui li hanno fatti baciare chissare non è piaciuto proprio a tutti comunque fatemi sapere anche voi cosa ne pensate dei baci di Harry Potter e magari ditemi qui nei commenti qual è quello che vi è piaciuto di più io vi ringrazio vi chiedo di seguirmi su Instagram e Facebook e di iscrivervi al nostro canale su YouTube cliccando anche sulla campanella che è sempre una cosa importantissima e da Captain Nerd che oggi è tutto noi ci vedremo presto a un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao ciao